L'Orbita Morta L'ultimo contatto con gli spettri è avvenuto vicino all'osservatorio celeste. Andiamo e troviamoli. L'Orbita Morta L'Orbita Morta L'Orbita Morta L'Orbita Morta Torniamo passando dai terreni di riproduzione dell'alveare. L'Avanguardia dice che si stanno riversando in superficie e tengono i caduti occupati. L'Orbita Morta L'Orbita Morta L'Orbita Morta L'Orbita Morta Rilevo ancora gli spettri. Sono in una radura tra alcuni edifici non lontani da qui. Gli spettri sono ancora qui. Gli spettri sono ancora qui. Nelle mani dei caduti. L'Orbita Morta Questo contiene i codici. Questo contiene i codici. Troviamo la parabola. L'Orbita Morta L'Orbita Morta L'Orbita Morta L'Orbita Morta L'Orbita Morta L'Orbita Morta Ci avviciniamo alla stazione di controllo. Eccola Eccola L'Orbita Morta Morta L'Orbita Morta Ecco i comandi. Ecco i comandi. Portami dentro e vediamo se i codici funzionano. L'Orbita Morta 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 Fuori! La parabola! Si sta aprendo! Incredibile! Si sta attivando! Astro sepolcri dell'alveare! Arrivano! No! 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 No!